benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto buonasera a tutti grazie questa sera abbiamo un argomento un po meno entusiasmante di quello della settimana scorsa perché la settimana scorsa abbiamo raccontato uno dei momenti più pazzeschi della storia d'italia quando nel giro di pochi mesi si realizza una serie di eventi in parte previsti calcolati voluti soprattutto da cavur e preparati per un decennio in parte assolutamente imprevisti inattesi perché quando entra in scena garibaldi non sono assolutamente cose che qualcuno si stesse aspettando fatto sta che tra la lenta preparazione di cavur che in ogni dettaglio aveva preparato la guerra contro l'austria e l'irrompere sulla scena di garibaldi della rivolta in sicilia e della spedizione dei mille si realizza qualcosa che nessuno aveva creduto di poter realizzare così in fretta l'italia unita dopodiché i primi anni di questa italia unita sono anni faticosi sono anni di delusioni per tanti ecco noi abbiamo a volte siamo un po prigionieri di due visioni estreme del risorgimento da un lato abbiamo ereditato una visione come dire eccessivamente entusiastica un po propagandistica il risorgimento soltanto come epopea e come eroi dall'altra è di moda da molti anni anche invece una versione altrettanto estrema la leggenda nera del risorgimento il libro nero dei savoia la denigrazione sistematica di tutto quello che è stato fatto intorno all'unità d'italia in realtà noi dovremmo fare lo sforzo di immaginare invece un pezzo di storia d'italia che come tutti gli altri momenti della storia d'italia non vede un paese unito dove sono tutti d'accordo al contrario vede un paese diviso lacerato dove ci sono desideri e idee diversissimi in contrasto fra loro e poi dobbiamo anche fare lo sforzo di immaginare cosa ha voluto dire per questo paese uscire da un momento di entusiasmo appunto quasi surreale quando succede qualcosa che nessuno credeva che potesse succedere e poi ti risvegli ti risvegli nella realtà di un paese povero di un paese isolato di un paese con mille problemi e di un paese che non è più governato da quello che finché era vissuto tutta Europa considerava il più grande politico vivente cioè il conte di cavour la morte di cavour all'indomani della proclamazione dell'unità d'italia lascia al governo del paese il suo partito i moderati conservatori rispettabili ma che certamente non hanno come dire la visione di insieme e la capacità politica di cavour il risultato è un'italia dove primo si succedono governi che non durano niente è una cosa che abbiamo già conosciuto in altre fasi più recenti della nostra storia dopo la morte di cavour abbiamo il governo ricasoli otto mesi poi il governo rattazzi nove mesi poi il governo farini tre mesi finalmente minghetti riesce a durare un anno e mezzo caduto anche minghetti non trovano di meglio che mandare al governo i militari la marmora militare generale diventa presidente del consiglio e lui riesce a durare è presidente del consiglio da quasi due anni quando scoppia la terza guerra di indipendenza questi governi hanno preso provvedimenti impopolari quintino sella ministro delle finanze vuole arrivare al pareggio di bilancio a tutti i costi e quindi introduce una politica di severissime rinunce e sacrifici per tutti che come sempre vuol dire innanzitutto per i poveri Garibaldi è stato arrestato e quasi ammazzato alla Spromonte per il terrore che andasse a attaccare Roma e quindi il Papa e che quindi il grande protettore del Papa il nostro amico Napoleone III dichiarasse guerra all'Italia per difendere il Papa l'esercito quello che loro chiamavano l'esercito meridionale cioè l'esercito garibaldino è stato sciolto fra mille polemiche perché molti avrebbero voluto che accanto all'esercito regolare anche le forze dei garibaldini con tutti gli ideali che incarnavano rimanessero al servizio del paese ma i moderati al governo hanno paura dei garibaldini che sono dei sovversivi dei rossi quindi l'esercito garibaldino viene sciolto qualche generale entra nell'esercito del re ma il grosso dei volontari vengono mandati a casa e senza neanche tanti ringraziamenti e magari a casa scoprono che la polizia li tiene d'occhio il sud è in preda al brigantaggio e per reprimere il brigantaggio che è un fenomeno complesso e che ha tante cause il nuovo esercito italiano usa la mano pesante fucilazioni indiscriminate legge marziale e così via la capitale viene spostata da torino a firenze cosa che noi siamo abituati a pensare come una cosa vabbè è successa quindi sono quelle cose che uno studia a scuola no nel 64 la capitale viene spostata a firenze ma spostare la capitale a firenze lo facciamo perché ce lo chiede napoleone terzo come garanzia che non vogliamo più andare a roma se facciamo tutta questa fatica di spostare la capitale è per restarci un po napoleone terzo protettore del papa dello stato pontificio vuole dall'italia la garanzia che il papa non è più minacciato che l'italia fare a meno di roma spostare la capitale da torino a firenze naturalmente vuol dire anche lasciare come prima una grande città italiana napoli abituata da secoli a essere capitale si è trovata di colpo ridotta a città di provincia con un contraccolpo pesantissimo adesso la stessa cosa succede a torino e l'esercito italiano imparzialmente non spara soltanto al sud ma spara anche al nord quando i torinesi manifestano pacificamente contro il trasferimento della capitale l'esercito spara facendo più di 60 morti tra piazza castello e piazza san carlo il clima è pesante e molti tutti quelli diciamo così fa virgolette oggi diremo di sinistra non soltanto i mazziniani democratici che volevano la democrazia la repubblica ma tutti quelli che avevano sperato in un'italia appunto un po più libera un po più aperta sono profondamente delusi e proprio in questo momento si presenta l'opportunità di riscattare tutto questo di ricreare l'entusiasmo di completare il risorgimento di completare l'unità d'italia perché manca ancora un pezzo all'unità d'italia nel 59 la seconda guerra di indipendenza è stata interrotta napoleone terzo e senza di lui non si poteva fare ha deciso che bastava regalare la lombardia a vittorio emanuele il veneto è rimasto agli asburgo che l'unità non sia completa che senza il veneto senza venezia l'italia non sia veramente unita che quindi prima o poi ci sarà una nuova guerra lo sanno tutti ma per fare una nuova guerra bisogna che ci sia un contesto internazionale che lo permette da soli non ce la faremmo mai questo contesto internazionale si manifesta all'improvviso nel 1866 per via dell'evoluzione politica di un altro pezzo d'europa la germania la germania non è ancora unita noi ci siamo uniti prima di loro e i tedeschi che avevano bismarck in quegli anni i giornalisti tedeschi scrivevano avessimo noi cavour invece di questo bismarck che ci abbiamo dopodiché bismarck con un po di ritardo ci arriva anche lui per unificare la germania bisogna che una grande potenza la prussia si affermi in modo indiscutibile come l'unica vera grande potenza tedesca l'altra grande potenza tedesca è l'austria quindi bismarck e la prussia decidono di fare la guerra all'austria ridimensionarla e mandare il chiarissimo messaggio a tutti gli stati tedeschi la baviera la sassonia l'assia no il messaggio che è la prussia d'ora in poi che guiderà i tedeschi con un pretesto qualunque la prussia dichiara guerra all'austria politica si fa in modo molto spregiudicato a quell'epoca ma prima di dichiarare guerra all'austria bismarck ha pensato bene di chiedere agli italiani se per caso non sono interessati a partecipare e naturalmente gli italiani sono interessati a partecipare perché un'altra bella guerra contro l'austria abbiamo di nuovo un potente alleato formidabile si vince come nel 59 e ci prendiamo anche il veneto perciò il 15 giugno 1866 la prussia dichiara guerra all'austria e il 20 giugno la dichiara anche l'italia l'esercito italiano scende in campo è l'esercito italiano non è più l'esercito piemontese ma è ancora da un certo punto di vista l'esercito piemontese molto ingrandito è l'esercito dei savoi è l'esercito del re è diventato italiano e si è quadruplicato nel 59 vittorio emanuele seconda aveva messo in campo cinque divisioni adesso mettiamo in campo 20 divisioni più di 200 mila uomini un grande esercito per l'epoca e questo esercito è davvero italiano è reclutato in tutto il paese ha assorbito migliaia di ufficiali dell'ex esercito borbonico ha assorbito anche una piccola quota di garibaldini come vi dicevo ma meno sono molti di più gli ex ufficiali dei borboni che non gli ex ufficiali di garibaldi nel nuovo esercito italiano ed è giusto così l'impronta piemontese è ancora dominante nei comandi l'esercito italiano che scende in campo nel 66 ha quattro corpi d'armata due sono comandati da generali piemontesi uno da un toscano e uno da un modenese il cialdini i generali di divisione sono 21 su questi 21 generali di divisione 14 vengono dall'esercito piemontese il che non vuol dire che fossero tutti piemontesi perché negli anni prima dell'unità il piemonte aveva accolto patrioti in fuga in esilio anche da altre parti d'italia uno di questi 14 generali che erano già generali nell'esercito piemontese è un napoletano per esempio il mezzacapo che poi più tardi sarà il primo meridionale ministro della guerra ma ci sono anche due generali che vengono dall'esercito dei borboni c'è un generale che viene dall'esercito toscano e quattro che erano generali di garibaldi bixio sirtori cosens medici dunque predominio piemontese ancora evidente nella gerarchia già meno nel corpo ufficiali per nulla nella truppa che ormai ripeto è reclutata in tutto il paese ma ma non è facile creare un esercito italiano da un paese così grande così diversificato e da tradizioni militari così diverse e questo nella campagna del 66 si vedrà è la prima guerra di un esercito italiano in questo esercito italiano come vi dicevo ci sono due generali il nonziante e il che erano stati generali del re di napoli generali dei borboni ebbene appena scoppia la guerra tra le truppe cominciano a correre voci di tradimento comincia a correre la voce che i due generali borbonici in realtà tradiscono sono d'accordo con gli austriaci vogliono vendere i loro soldati molto probabilmente è stato lo spionaggio austriaco a inventare queste voci e a metterle in giro ma le voci rimbalzano fra i soldati e voi capite il morale di soldati che sono comandati da un generale e loro sono convinti che questo generale vuole alla prima occasione consegnare la sua divisione al nemico tradirli tra i soldati nascono le voci più folli ogni tanto si dice il generale nonziante è stato arrestato è stato fucilato non c'è niente di vero però già questo dà l'idea della fatica di far confluire due eserciti vari eserciti diversi in un'unica armata e poi c'è la convivenza fra settentrionali e meridionali in caserma che non è facile su questo gli aneddoti sono tanti se uno studia un po la giustizia militare di quegli anni va a vedere i fatti che venivano denunciati per cui i soldati si prendevano qualche mese di prigione magari ne trova continuamente di questi episodi nella caserma del 45esimo fanteria a pinerolo il soldato giuseppe maiolino aggredisce a calci e pugni il caporale viriglio soldato maiolino è meridionale il caporale viriglio ovviamente è piemontese il caporale giuseppe morelli accorre a difendere il caporale viriglio aggredito al che il soldato michele cantoriello esclama cane di un caporale tu sei napoletano e prendi la difesa di questi piemontesi sta bene allerta che se non potrò farti la festa questa notte te la farò infallantemente domani denuncia al colonnello giustizia militare processo sei mesi di galera e va bene non che dall'altra parte gli umori fossero più tenui anzi dalle memorie di un bersagliere piemontese il bersagliere Giovanni Rossetti che presta servizio proprio dal 59 al 66 il bersagliere Rossetti racconta di quella volta che in caserma è scoppiata una rissa e lui è intervenuto per fermare dice due napoletani che minacciavano un piemontese dopodiché il bravo Rossetti commenta ce l'avevano già fatto sentire questi maccheroni che volevano rivoltarsi a noi piemontesi e lombardi fra noi vi regnava sempre guerra continua con questa razza diabolica dopodiché finisce a botte coltelli tirati fuori per fortuna non usati ma tirati fuori e sguainati e con Rossetti che in camerata grida fuori tutti i napoletani è ora di finirla di dargli un esempio a questi maccheronacci traditori ecco non sarà stato sempre così ma insomma evidentemente questa convivenza improvvisata fra le reclute che vengono da diverse parti d'Italia non è così facile e tuttavia noi siamo forti perché gli austriaci devono vedersela con i prussiani il grosso dell'esercito austriaco è lassù in Europa centrale ad affrontare un nemico formidabile per il fronte italiano gli austriaci hanno le briciole noi mettiamo in campo 220.000 uomini gli austriaci ne mettono in campo 75.000 se state cominciando a chiedervi come abbiamo fatto a perdere avete ragione questo è il punto all'inizio sembra che vada tutto molto bene questa è di nuovo come nel 59 una guerra fatta con i treni la frontiera è il mincio si tratta le fortezze del quadrilatero che una volta erano nelle lontane retrovie dell'esercito austriaco schierato sul Ticino adesso le fortezze del quadrilatero sono lì in prima linea si comincia la guerra sul mincio sotto Peschiera sotto Mantova e portare quel grande esercito lì lo si fa in pochi giorni grazie al treno poi bisogna decidere cosa fare e chi deve decidere cosa fare in primo luogo è il re il re in base allo statuto ha il comando supremo dell'esercito e il re vittorio ha sempre detto che lui è un militare un soldato che l'unica cosa che sa fare è quella in realtà il re vittorio dopo le esperienze del 59 non è più così sicuro di essere un grande generale e fa un passaggiamente un passo indietro è presente ovviamente al comando supremo ma non è lui il comandante titolare chi è il comandante titolare? in Italia ci sono tre generali importanti in quel momento uno è davvero un grande generale è Garibaldi e Garibaldi stavolta non è tenuto ai margini come si era sempre fatto prima decidono di dargli un grosso ruolo in questa guerra però non il comando dell'esercito questo sarebbe troppo il corpo ufficiale piemontese si ribellerebbe all'idea di dover obbedire a Garibaldi a Garibaldi si consentirà di reclutare di arruolare una marea di volontari Garibaldi arriva a mettere in campo 40.000 volontari e viene incaricato di marciare su Trento che è uno degli obiettivi naturalmente noi sappiamo che Trento e Trieste ci vorrà ancora molto tempo ma in realtà in quel momento si pensa prendiamo tutto anche Trento e lo farà Garibaldi peccato che siamo nel 66 Garibaldi non è più quello di una volta Garibaldi comincia a essere invecchiato ha l'artrite non è più il fulmine di guerra di una volta e comunque viene mandato verso Trento il grosso dell'esercito sul Mincio che deve invadere il Veneto ci sono due generali che potrebbero comandarlo uno è la Marmora primo ministro fino a quel momento è il più esperto generale piemontese l'altro è Cialdini l'altro grande generale considerato molto in gamba all'epoca Cialdini che non è piemontese è modenese appunto e questo conta far vedere che anche chi non è piemontese ha uno spazio nel comando di questo esercito Cialdini che però è anche l'uomo della repressione del brigantaggio ed è anche l'uomo che ha fatto sparare a Garibaldi alla Spromonte e che quindi è un personaggio politicamente molto controverso bisogna decidere chi comanderà l'esercito la Marmora o Cialdini la Marmora dice se comando io l'esercito si va avanti senza tante storie senza tante finezze si passa il mincio si sfonda e si va avanti Cialdini propone un piano diverso più elegante se comando io passiamo da sud attraversiamo il Po giù verso l'Adriatico verso Rovigo e invadiamo il Veneto da sud o l'una o l'altra ma come sempre quando ci sono troppi a discutere e non si sa bene chi ha l'autorità di decidere si decide di fare tutte e due le cose così avremo un comando per la Marmora e un comando per Cialdini e la Marmora comanderà dodici divisioni sul Mincio e invaderà il Veneto e Cialdini comanderà otto divisioni sul Po sul basso Po e invaderà anche lui il Veneto dall'altra parte le ambiguità sono tante ci sono due comandanti in capo ognuno dei quali pensa che il suo compito è il più importante e quello dell'altro è un compito di appoggio il re si guarda bene dal dire chi dei due è il più importante e per di più abbiamo diviso in due l'esercito il fatto però è che siamo talmente più forti degli austriaci che anche ognuna di queste due parti da sola è più forte dell'intera forza austriaca in Veneto non ci dovrebbero essere problemi ci si prepara a cominciare salvo che mentre Cialdini si prepara a passare il Po e la Marmora si prepara a passare il Mincio in realtà la Marmora perde tempo e la Marmora perde tempo perché ha delle riserve mentali la Marmora è stato primo ministro a Firenze fino a pochi giorni prima e sa quali sono gli umori in Europa sa che Napoleone III sarebbe ben contento che l'Austria si prendesse una batosta e però non vorrebbe neanche che la Prussia diventasse troppo forte quindi Napoleone III sta cercando di mettere d'accordo in segreto l'Italia e l'Austria l'Austria potrebbe cedere il Veneto pacificamente Napoleone III sperava addirittura che l'Italia restasse fuori dalla guerra e che l'Austria cedesse il Veneto comunque non c'è riuscito ma continua a intrigare e gli austriaci adesso che vedono che si sta mettendo male non sono tanto inclini a dirgli di no perciò quello che sa la Marmora è che Napoleone III gli ha detto va bene ormai siete in guerra ma andateci piano perché da un giorno all'altro l'Austria potrebbe offrirvi il Veneto a patto che voi vi fermiate e quindi la Marmora non ha fretta ah dimenticavo non è soltanto una guerra terrestre sarà anche una guerra navale l'Italia ha una grande flotta era già una grossa flotta quella del Regno Sardo era una flotta ancora più forte quella napoletana nel 1860 la flotta napoletana è passata in blocco dalla parte dei Savoia con tutti i suoi ommiragli e tutti i suoi ufficiali e quindi è stata creata una nuova grande marina in cui ci confluiscono quella piemontese che poi è Ligure e quella napoletana dall'altra c'è la marina austriaca che poi è quella veneziana fondamentalmente con le sue basi a Venezia a Pola ma quella italiana è più forte perciò la flotta italiana il 21 giugno primo giorno di guerra salpa da Taranto e si inoltra nell'Adriatico al comando dell'ammiraglio Persano con l'ordine di trovare e distruggere la flotta austriaca gli austriaci come vi dicevo hanno poche forze al comando l'Arciduca Alberto l'Arciduca Alberto d'Asburgo ha 46 anni è un bravo generale anche se è così miope che anche con gli occhiali non ci vede però è bravo con le carte è bravo a valutare le situazioni l'Arciduca Alberto non appena si rende conto che gli italiani si sono divisi in due prende l'unica decisione logica io sto fermo a Verona e aspetto il primo dei due che viene sotto lo attacco e cerco di batterlo separatamente dall'altro il 23 giugno terzo giorno di guerra la marmora finalmente passa il mincio Cialdini è ancora fermo a sud del Po perciò l'Arciduca Alberto decide di infischiarsene della minaccia di Cialdini che potrebbe comparirgli alle spalle a un certo punto ma l'Arciduca conosce i suoi polli evidentemente quei primi giorni di guerra gli ha dato l'impressione che gli italiani vanno coi piedi di piombo di conseguenza l'Arciduca decide di attaccare la marmora la marmora sta venendo avanti senza saper troppo bene cosa vuole fare ha lasciato una parte delle sue truppe ad assediare Peschiera un'altra parte davanti a Mantova un'altra parte a tenere i ponti sul mincio in altre parole ha attraversato davvero il fiume solo con una forza ridotta su 150.000 uomini che avrebbe se ne trova avere solo 50.000 quel giorno e quel giorno l'Arciduca Alberto lo attacca e in quel momento lì l'Arciduca Alberto ha un esercito più grosso di quello di la marmora lì dove dove sempre un esercito che ha attraversato il mincio venendo dalla Lombardia si trova per forza di cose quando si inoltrano il quadrilatero a Custoza il ponte principale è lì e di conseguenza di nuovo come nel 48 gli eserciti si incontrano a Custoza Custoza è una battaglia violenta più di 20.000 no 15.000 morti e feriti da una parte e dall'altra non pochissimi è una battaglia assurda in cui interi reparti rimangono fermi senza far niente perché non ci sono ordini perché i collegamenti non funzionano è una battaglia di cui poi ricordate c'è una pagina del cuore di De Amicis che racconta l'incontro del bravo muratore se non sbaglio il papà di Coretti il bravo proletario che però è stato soldato nel 66 ed era soldato nel 66 in un reggimento che era comandato dal principe ereditario il principe Umberto adesso il principe Umberto è diventato il re il re è in visita a Torino e l'operaio non sta più nella pelle l'idea di vedere rivedere il suo vecchio comandante e racconta a suo figlio cosa è stata quella battaglia di Custoza quando il loro reggimento è rimasto tutto il giorno a reggere agli attacchi della cavalleria austriaca questa marea di ulani che caricavano continuamente ma noi fermi col principe in mezzo che ci comandava a cavallo tranquillo e quegli altri quei demoni scatenati che continuavano ad attaccarci è una leggenda il quadrato di Villafranca la resistenza della fanteria italiana schierata in quadrato contro le cariche della cavalleria austriaca poi uno va a vedere gli ordini di battaglia gli austriaci avevano in tutto un reggimento di ulani 500 uomini 10.000 soldati italiani rimangono fermi tutto il giorno inquadrato difendendosi dagli attacchi della cavalleria austriaca d'altra parte come andava a quei reparti al di sopra del principe c'era il generale della rocca noto negli ambienti militari come il macigno cioè uno che non si muoveva velocemente di solito in sostanza fatto sta che alla battaglia di custozza gli italiani vengono battuti col senno di poi uno va a vedere non così pesantemente le perdite sono quasi uguali da una parte e dall'altra noi abbiamo impegnato solo una minoranza delle nostre forze le divisioni che sono state impegnate si sono prese una bella batosta e adesso stanno ripiegando in gran disordine ma sono solo alcune delle divisioni disponibili il problema è che il comando perde la testa la marmora corre al mincio a organizzare la ritirata dichiarando che disfatta che catastrofe nemmeno nel 49 la marmora si ritira con tutte le truppe dietro il mincio fa saltare i ponti sul mincio dopodiché decide che non è al sicuro neanche lì e si ritira dietro l'oglio ancora più indietro il re vittorio è sorpreso lui pensava per una volta ci aveva azzeccato il re vittorio che non fosse una cosa così grave quella sera in mezzo alle truppe in ritirata il re vittorio cavalcava con aria abbastanza tranquilla dichiarando domani daremo agli austriaci una buona racle una bella botta ma la marmora ha ordinato la ritirata a questo punto viene in mente sì però c'è Cialdini mentre gli austriaci sono qui alle prese con noi sul mincio e Cialdini passa il po' molto più giù è tutto fatto siamo a posto gli spunta alle spalle li prendiamo fra due fuochi già il 24 durante la battaglia il re che ripeto ha una visione abbastanza chiara telegrafa a Cialdini dicendogli passate immediatamente il po' Cialdini risponde per telegramma va bene domani passerò il po' la sera non si può non avvertire Cialdini che nel frattempo però la marmora è stato battuto a custozza perciò il re manda un altro telegramma a Cialdini e con forse un eccesso di realismo gli scrive perdite immense molti generali feriti dato ordine ripassare Mincio dopodiché il re tranquillamente scrive a Cialdini ma domani torneremo all'attacco quindi voi venite passate questo po' senza rendersi conto dell'effetto che farà a Cialdini ricevere queste notizie perdite immense Cialdini risponde al re che gli ha ordinato di passare immediatamente il po' risultato battaglia d'oggi è grave e mi pone in grande perplessità poi già che c'è Cialdini manda un telegramma a Firenze al ministro della guerra disastro accaduto sul Mincio cambia molto situazione passando domani po' temo compromettere sorti Italia vostra signoria che ne pensa? in altre parole Cialdini sta cercando qualcuno che gli ordini di star fermo e che si prenda la responsabilità di dirgli sì è vero troppo rischio meglio non muoversi l'indomani disgraziatamente la marmora scrive di nuovo a Cialdini dicendogli quale cose vanno malissimo stia allerta stato armata deplorabile a questo punto Cialdini decide di ritirarsi anziché passare il po' si ritira verso Bologna per mettersi al riparo qualunque cosa mai dovesse succedere e telegrafa dopo disastro ieri sarebbe follia pensare passaggio po' ciò comprometterebbe sorti paese e dinastia dati ordini per concentrarmi verso Bologna capite la sensazione che questi hanno che l'Italia è un paese fragilissimo è una monarchia appena inventata che è pronta a crollare al primo disastro comprometterebbe sorti paese dinastia l'Austria fa la guerra sapendo che se la perde sarà un disastro ma nessuno viene in mente che gli Asburgo perderanno il trono in Italia invece c'è il panico che se qualcosa va male i Savoia spariscono salta tutto salta la monarchia ci sarà la rivoluzione e perciò Cialdini ritiene che sia meglio conservare un pezzo di esercito intatto non si sa mai cosa succederà non si sa mai ci fosse da sparare di nuovo a Garibaldi e ai Garibaldini meglio evitare di mettere a rischio quel pezzo di esercito che ancora obbedisce agli ordini dopodiché il comando di La Marmora e del Re è sconvolto quando Cialdini li informa che se ne sta andando gli hanno ripetutamente ordinato di passare questo Po e venire ad aiutarli Cialdini se ne sta andando il problema è che in quel momento si scopre che non è così chiaro se La Marmora può dare ordini a Cialdini perché le hanno messi al comando i tuoi eserciti indipendenti e La Marmora non si sente politicamente abbastanza forte per dare ordini a Cialdini dopo la batosta che ha preso lui a custozza perciò il 26 due giorni dopo la battaglia La Marmora telegrafa a Cialdini pregandolo caldamente di non abbandonare il Po come ha minacciato di fare ritirandosi verso sud Cialdini pregato caldamente decide di fare quello che vuole lui e continua a ritirarsi verso Bologna a questo punto La Marmora fa le bizze si dimette dal comando e dice al re allora date il comando a Cialdini piuttosto il re evita di accettare le dimissioni Cialdini ripiega la Marmora ripiega l'Arciduca Alberto è padrone del Veneto nessuno lo minaccia tutto è fermo per fortuna non stiamo facendo questa guerra da soli ci sono i prussiani e dopo che noi siamo rimasti fermi una decina di giorni arriva la notizia che i prussiani hanno vinto il 3 luglio in Bohemia c'è la grande battaglia di Sadova dove il grosso dell'esercito austriaco viene schiacciato dai prussiani istantaneamente l'imperatore Francesco Giuseppe contatta Napoleone III per dirgli io per cavarmela ho bisogno che almeno l'Italia esca dalla guerra vogliono il Veneto gli posso dare il Veneto ben inteso Francesco Giuseppe dice io però non mi abbasso a darglielo direttamente il Veneto a me risulta che abbiamo vinto noi contro gli italiani perciò io posso accettare di cedere il Veneto alla Francia se poi la Francia lo vuole regalare all'Italia che non se lo merita va bene padronissimi le cose stanno a questo punto però c'era Garibaldi c'era Garibaldi che si stava muovendo verso Trento e Garibaldi anche lui si muove ma non più così veloce come una volta i volontari continuano ad affluire bisogna armarli metterli in divisa ci vuole del tempo in quei primi di luglio Garibaldi è in Valtellina col grosso del suo esercito gli austriaci si sono rafforzati nel Trentino sanno che lì sta arrivando Garibaldi ci sono i primi scontri sul confine e non vanno neanche tanto bene in uno di questi piccoli scontri Garibaldi viene ferito non è una ferita grave però ne ha già avuto e altre di ferite dicono anche le canzoni naturalmente Garibaldi fu ferito Garibaldi viene ferito quasi continuamente è uno che comanda stando davanti a tutti e questo non aiuta già non era in forma passano alcune settimane senza che nessuno faccia quasi niente dopodiché dato che risulta che gli austriaci ormai hanno perso la guerra perché i prussiani tra poco saranno a Vienna e noi siamo enormemente più forti di loro il comando italiano decide di provare di nuovo cautamente a mettere il naso avanti nella prima metà di luglio Cialdini torna verso il Po lì c'è una piccola fortificazione in mano agli austriaci Borgoforte Cialdini decide che prima di passare il Po deve prendere questa fortificazione comincia ad assediarla intanto manda telegrammi alla marmora pregandolo pregandolo caldamente di non muoversi dall'olio per evitare rischi la marmora a sua volta scrive a Cialdini credo convenientissimo che ella passi subito il Po finalmente Cialdini reso persuaso che non c'è nessuno davanti passa il Po l'11 luglio entra a Rovigo le cose stanno cominciando a raddrizzarsi però il grosso dell'esercito con la marmora è troppo scioccato da custozza per andare davvero avanti e anche Cialdini quindi ovviamente continua a muoversi molto lentamente ormai il problema è la Prussia costringerà l'Austria a fare la pace prima che noi siamo riusciti a combinare qualcosa oppure riusciamo a combinare qualcosa prima che finisca questa guerra però c'è sempre la flotta la flotta che sta avanzando nell'Adriatico al comando dell'ammiraglio Persano e al comando supremo si comincia a dire va bene anche se l'esercito ormai non riuscirà più a fare granché però abbiamo la flotta una grande vittoria può ancora venirci dalla flotta il 25 giugno la flotta era arrivata ad Ancona gli ordini dell'ammiraglio Persano sono chiarissimi sbarazzare l'Adriatico dalle navi da guerra nemiche due giorni dopo il 27 giugno la flotta austriaca al comando dell'ammiraglio Tegetov viene a incrociare davanti ad Ancona quasi come a dire venite fuori se avete il coraggio la flotta italiana non esce il governo non è contentissimo comincia a scrivere a Persano dicendo che sì certo le navi costano care quindi bisogna stare attenti però qualcosina dovrebbe fare però con cautela De Pretis ministro della marina all'ammiraglio Persano il 4 luglio mantenere una vigile e minacciosa difensiva però intanto la situazione sta precipitando Austria e Prussia stanno per fare la pace dobbiamo chiudere chiuderla lì è impossibile qualcosa bisogna ottenere il 14 luglio a Ferrara si tiene un gran consiglio di guerra col re la marmora Cialdini e viene deciso che Cialdini marcerà verso Lisonzo quasi a minacciare di invadere l'impero austriaco e che Persano deve attaccare l'ammiraglio Persano arriva a un ordine chiarissimo entro 8 giorni dal 14 luglio deve attaccare se no sarà destituito dal comando Persano esce da Ancona e comincia a inoltrarsi nell'Adriatico settentrionale fra le isolette della Dalmazia una di quelle isolette lo sapete si chiama Lissa Persano incrocia fra le isolette della Dalmazia aspettando che la flotta austriaca esca ad affrontarlo la flotta austriaca esce ad affrontarlo il 20 luglio si combatte nelle acque di Lissa una battaglia navale come non si era mai vista prima perché capite il punto è questo la tecnologia delle navi da guerra sta cambiando a velocità folle fino a 6 o 7 anni prima le navi da guerra erano navi di legno con gli alberi e le vele su cui da qualche anno si montava anche un motore a vapore e un fumaiolo per cui il veliero aveva anche il vapore che poteva essere utilizzato in crociera ma in realtà era ancora fondamentalmente un veliero di legno nella guerra civile americana nel 1862 quattro anni prima all'improvviso si era combattuta una battaglia navale fra due navi mai viste prima sia i sudisti sia i nordisti ciascuno per conto proprio e in segreto avevano deciso di ricoprire una nave di piastre d'acciaio cosa che non si era mai vista prima ma quella è l'epoca dell'acciaio naturalmente dell'industria pesante della rivoluzione industriale avevano fatto due navi diversissime i sudisti avevano preso un'enorme nave e l'avevano tutta coperta d'acciaio i nordisti ne avevano presa una piccolissima e avevano tutto coperta d'acciaio anche quella e poi cannoni il più grossi possibile sull'una e sull'altra la battaglia navale fra le due prime corazzate della storia si era conclusa in un pareggio le palle rimbalzavano da allora appunto era nata la corazzata tutti i paesi si erano messi a costruire corazzate le flotte erano composte da queste nuove corazzate d'acciaio e dalle vecchie navi di legno a vapore a vela che ancora erano in servizio nessuno sapeva bene come usarle queste navi erano anzi molto impressionati dal fatto che i cannoni disponibili in genere non riuscivano a danneggiare le corazzate o con molta fatica tanto che gli ammiragli si erano messi in testa che il modo migliore per affondare una nave nemica con una corazzata fosse di speronarla come con le galere di Caio Duilio insomma risultato si combatte una battaglia navale tra due flotte che hanno navi che non hanno mai sperimentato in combattimento prima non sanno bene come usarle hanno idee sbagliate come appunto quella che la cosa migliore da fare sia andare dentro e speronare sulla flotta italiana sono tutti liguri e napoletani e siciliani ovviamente se non sbaglio verga nei malavoglia farà morire Alissa uno dei personaggi uno dei protagonisti Ntoni della famiglia dei malavoglia sull'altra flotta sono Veneti e Croati su questo c'è una polemica perché da noi in Veneto si ama molto dire che la battaglia di Lissa è stata l'ultima vittoria della flotta veneziana è l'ultima vittoria di San Marco e che l'ammiraglio Teghetov dava ordine in veneziano ai suoi marinai e che quando la battaglia è stata vinta e la flotta italiana è stata sconfitta sulle navi austria che tutti hanno urlato viva San Marco in realtà ci sono delle liste dei pochi morti e feriti austrie c'è la battaglia di Lissa hanno tutti i cognomi croati in generale però il cognome croato non vuol dire perché l'influenza italiana e veneta in istria in istria in dalmazia talmente forte che molti croati in realtà erano italiani nonostante il cognome quindi il problema è ancora diciamo irrisolto certamente abbiamo i liguri e i napoletani contro i veneziani e i croati e i veneziani e i croati vincono anche se la flotta italiana è quasi il doppio alla fine Teghetov manovra meglio concentra meglio il suo fuoco si scopre che una corazzata non ne può affondare un'altra ma cinque o sei corazzate che tutte insieme colpiscono lo stesso bersaglio la possono affondare come due corazzate italiane affondano con i loro comandanti e quasi tutto l'equipaggio le perite austrieche sono insignificanti quelle italiane pesanti anche se si sono perse due corazzate su una flotta che ne aveva sette mi pare insomma non è distrutta la flotta però la botta c'è stata l'ammiraglio persano quella sera rimane lì il più possibile continuando a cannoneggiare gli austrieci che dopo averci affondato due corazzate se ne tornano tranquillamente in porto persano non li insegue torna in porto ad Ancona da Ancona telegrafa annunciando una grande vittoria sono rimasto padrone delle acque e favorendo grandi festeggiamenti che per un attimo in tutta Italia vengono programmati per celebrare la grande vittoria poi si viene a sapere che la flotta italiana ha perso più di 600 morti ha perso due corazzate gli austrieci non hanno perso niente e gli austrieci stanno facendo sapere al mondo con i dati e le cifre che loro hanno vinto la battaglia di Lissa vi rassicuro persano finirà sotto processo cacciato con ignominia eccetera va bene ma intanto intanto il disastro è fatto e Garibaldi e Garibaldi sta andando avanti verso Trento ma ormai gli austrieci hanno concentrato moltissime forze contro di lui con dei generali bravi e Garibaldi non è più proprio quello di una volta oltretutto Garibaldi che era abituato a comandare volontari garibaldini gente spregiudicata gente che aveva degli ideali non soldati di mestiere ed era abituato a sconfiggere con questi volontari i vecchi eserciti di mestiere più lenti che si trovava di fronte adesso paradossalmente adesso che sta invadendo il Trentino Garibaldi si trova di fronte non soltanto reparti austrieci regolari ma anche volontari tirolesi volontari tirolesi che sono venuti a combattere con i loro fucilini per difendere il Tirolo dall'invasione italiana Garibaldi si trova a combattere lui contro un nemico più garibaldino di lui da un certo punto di vista e non va tanto bene all'inizio Garibaldi viene sorpreso dagli austriaci i quali catturano i suoi accampamenti catturano più di mille prigionieri che portano a Trento Garibaldi stesso rischia di essere catturato poi se la cava poi siccome ancora Garibaldi riesce a rimettere insieme le sue forze che si stavano disgregando riesce a resistere a tener duro finché gli austriaci non mollano e ripiegano questa cosa verrà venduta all'Italia come la vittoria di Bezzecca dove però appunto gli austriaci hanno perso in tutto poco più di cento uomini Garibaldi ha perso cento morti duecentocinquanta feriti e più di mille prigionieri e tuttavia è una vittoria perché gli austriaci speravano di schiacciarlo e non ce l'hanno fatta e adesso e adesso in tutta Europa corre la notizia che l'Austria e la Prussia hanno firmato una tregua e che la Prussia ha imposto all'Austria di includere nella tregua anche l'Italia se l'Italia accetta se invece l'Italia non accetta sono fatti suoi si troverà da sola contro l'Austria in Italia bisogna decidere per un attimo qualcuno dice continuiamo da soli poi prevalgono come dire più miti consigli è meglio lasciar perdere il 23 luglio anche l'Italia accetta la tregua però questa tregua è formulata in modo un po' ambiguo in modo che Garibaldi possa continuare perché si spera che almeno lui arrivi a Trento finalmente e arrivare all'armistizio vero e proprio con Trento in mano sarebbe un'altra cosa traccheggiamo per parecchi giorni a dire il vero traccheggiamo per più di due settimane con le cancellerie europee che cominciano a dire ma scusate fate sul serio o no la fate questa pace o non la fate si tira in lungo finché si può finalmente il 9 agosto è necessario firmare questa pace Garibaldi è quasi a Trento ma non c'è ancora arrivato gli mandano un telegramma dicendo fermati la guerra è finita Garibaldi come tutti sanno risponde obbedisco e la guerra è finita e l'Austria cede il Veneto a Napoleone III e Napoleone III gira il Veneto all'Italia gli umori nel paese come potete immaginare non sono di grande entusiasmo però bisogna andare a vedere perché ci sono tanti modi in un paese come l'Italia di reagire a un disastro di questo tipo ecco io vorrei finire raccontandovi alcune reazioni sia subito dopo sia negli anni successivi che ci danno un'idea di che cos'era l'Italia di allora però prima voglio fare una premessa questi testi che vi leggerò adesso li ho trovati da poco preparando questa lezione e hanno colpito molto anche me l'Italia lo sappiamo tutti è un paese strano ci sono paesi che sanno come dire vendere molto bene le proprie glorie i propri successi le proprie vittorie e parlare pochissimo delle cose andate male e in genere questi paesi traggono come dire grande prestigio internazionale e compattezza interna dal fatto che appunto si parla solo di quando vinciamo noi siamo tutto il contrario e non solo perché come Italia Unita non abbiamo vinto spesso non è solo questo noi siamo anche un paese e io lo dico perché mi rendo conto di essere anch'io dentro questo stato d'animo e non sono sicuro di quanto sia una cosa positiva e quanto una cosa negativa secondo me può essere entrambe le cose noi siamo un paese che dei nostri disastri delle nostre vergogne in molti casi come dire noi ne parliamo volentieri non sempre ci sono anche degli armadi con degli scheletri dentro ma delle grandi sconfitte militari in campo aperto noi ne parliamo sempre volentieri in realtà un po' per il gusto perverso di dire l'Italia è proprio quel paese ecco lo sappiamo tutti noi italiani amiamo moltissimo parlare male dell'Italia e poi perché l'Italia è un paese diviso dove quindi quando le cose vanno male allora è colpa di qualcuno e qualcun altro non può fare a meno di dire ecco vedete dove avete portato l'Italia non parlerò di spredo di altre cose del genere naturalmente che qui sarebbe fuori luogo pochi mesi dopo il disastro di Custoza e di Lissa nel settembre del 66 tre mesi dopo su una rivista importante molto di avanguardia intellettuale di discussione intellettuale scientifica che si chiamava il Politecnico esce un articolo di Pasquale Villari che è uno dei grandi storici italiani di quell'epoca professore a Firenze futuro ministro della pubblica istruzione Pasquale Villari pubblica un articolo con il titolo di chi è la colpa vè nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria ed è la nostra colossale ignoranza sono le moltitudini analfabete i burocratici macchina i professori ignoranti i politici bambini i diplomatici impossibili i generali incapaci l'operaio inesperto l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi arcadi e cioè una classe dirigente che ha una cultura tutta letteraria retorica stratta ecco l'abisso fra questi due mondi no? un popolo di analfabeti e una classe dirigente di poeti e di retori qualcuno dirà tutto sommato è andata bene così perché il paese rischiava una deriva autoritaria militarista si discute molto in quegli anni del militarismo piemontese che però è un modo di dire per indicare una certa vocazione della dinastia e del vecchio corpo ufficiali appunto a preferire l'idea di un paese governato in modo forte autoritario repressivo e qualcuno dirà meno male che abbiamo perso perché se si vinceva si andava in quella direzione il Tarchetti per esempio scrittore milanese famoso della scapigliatura nel 69 arriva a dire le disfatte di custozza e di lissa hanno giovato al nostro paese assai più che una grande vittoria lo hanno liberato dalla piaga terribile del militarismo e anche questo è molto italiano no? il dire va bene è andata molto male e però tutto sommato va bene perché chi comandava allora se lo è meritato di prendersi questa batosta è guai se invece fosse rimasto fosse rimasto al potere ma il passo più struggente un po' più lungo di questo ne leggerò alcuni brani su queste vicende il bilancio più struggente lo fa un grande poeta che oggi non è più tanto di moda ma era un grande poeta è uno dei pochi premi nobel italiani Giosuè Carducci Carducci alcuni anni dopo nel 1882 pubblica una prefazione a uno dei suoi volumi di poesia in cui rievoca le delusioni dell'Italia unita a cui poi si sono sommate le delusioni della guerra del 66 Carducci dice io ero dei moltissimi che nel 59 e nel 60 accolsero la formula garibaldina Italia e Vittorio Emanuele sapete che Garibaldi repubblicano guardato come il leader naturale di tutti i rivoluzionari i repubblicani e i socialisti nel 59 nel 60 dice no io faccio un passo indietro rinuncio alle mie convinzioni perché l'Italia la possono fare solo in Savoia con il loro esercito e quindi Italia e Vittorio Emanuele molti che sentivano come Garibaldi si erano adattati Carducci dice io ero uno di quelli senza nessun entusiasmo per la parte moderata e i suoi condottieri ma lealmente e poi spiega perché abbiamo accettato questa cosa di accettare la monarchia i Savoia e Carducci dice un po' per riconoscente affetto al re e al Piemonte perché in quegli anni 50 così deprimenti dopo la sconfitta della prima guerra di indipendenza il Piemonte dei Savoia era rimasto l'unica parte libera d'Italia a cui tutti guardavamo con speranza e quindi gli diamo diciamo questo beneficio al re di fidarci e poi dice Carducci perché io speravo che comunque si sarebbero incontrati i signori e i contadini la sinistra e la destra che nell'entusiasmo di una nuova patria si sarebbe creata un'Italia diversa da quella che conosciamo che conoscevamo finora mi sono fidato dice poi poi si è visto che insomma avevamo sbagliato a fidarci l'Italia tra il 61 e il 66 dice Carducci governata dai moderati che sono la sua bestia nera evidentemente lui uomo di sinistra laico l'Italia governata dai moderati è stata una delusione dopo l'altra sono le cose che io ho enumerato stasera all'inizio ma sentiamo come le enumera Carducci gli indegni procedimenti dopo l'acquisto delle due Sicilie usati con l'esercito meridionale e il suo gran capitano cioè lo scioglimento dell'esercito Garibaldino mandando tutti quanti a casa e Garibaldi a Caprera la politica violenta insieme e corruttrice tirannica insieme e anarchica incerta debole inetta che sgovernò le province del mezzogiorno giustificando quindi di fatto il dilagare del brigantaggio protesta vice Carducci contro il mal governo l'agguato di Aspromonte quando appunto sparano a Garibaldi e sembra abbastanza plausibile che avessero ordine di sparargli proprio a lui se per caso ci fosse rimasto nessuno al governo avrebbe pianto in quel momento la convenzione di settembre che è quella con cui l'Italia promette a Napoleone III che rinuncia a Roma e quindi trasferisce la capitale a Firenze la convenzione di settembre vantata come un trionfo dai nepotuncoli del Machiavelli i quali essi che non avevano voluto le regioni insanguinarono freddamente e ferocemente Torino che non avevano voluto le regioni per un momento si era discusso come la facciamo questa Italia con le autonomie federale oppure la facciamo unita centralizzata e l'avevano fatta centralizzata con un governo che appunto non si perita di far sparare sulla folla e Carducci dice con tutto questo ci saremmo accontentati se dopo tutti quei milioni spesi dal ministero della guerra dal ministero della marina tutti quei milioni che sparivano continuamente non si sapeva dove andavano a finire questa voragine di debiti se dopo una dittatura di cinque anni i moderati ci avessero dato nel 66 la vittoria ma i vincitori di Castelfidardo ci diedero custozza i trionfatori di Gaeta ci diedero lissa e poi dice e con tutto questo con il comportamento ignobile di tutti i costoro parla di Cialdini di come Cialdini ha insultato Garibaldi gli ha fatto sparare appunto si è vantato di averlo fatto arrestare e poi ha fatto la figura che ha fatto nella guerra del 66 con tutto questo dice anche se questa Italia è così diversa da quella che noi speravamo ma che importava e che importerebbe pur che l'Italia avesse vinto a custozza e a lissa a tutto si rimedia fuorché al disonore e in quell'anno l'Italia ebbe inoculato il disonore cioè la diffidenza e il disprezzo di se stessa il discredito e il disprezzo delle altre nazioni e Carducci dice sono acerbe parole queste che io scrivo lo so ci sto dicendo una cosa grossa ma anche so che per un popolo che ha nome dall'Italia non evita non avere né un'idea né un valore politico non rappresentare nulla non contare nulla essere in Europa quello che è il matto nel gioco dei tarocchi cioè la carta che perde sempre che non conta niente peggio l'Italia vista da Carducci nel 1882 peggio essere un mendicante che di quando in quando sporge una nota diplomatica ai passanti sul mercato politico e quelli ridono essere un cameriere che chiede la mancia a quelli che si alzano satolli dal famoso banchetto delle nazioni e quasi sempre con la scusa del malgarbo la mancia gli è scontata in schiaffi e la plebe contadina e cafona muore di fame o in bestia di pellagra la malattia che prendeva i contadini che per tutta la vita mangiavano soltanto polenta e quindi gli venivano a mancare certe vitamine o in bestia di pellagra o di superstizione o emigra o menatela almeno a morire di gloria contro i cannoni dell'Austria o della Francia o del diavolo che vi porti grazie grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio di Intesa San Paolo